La Stella Rossa, giocata a Belgrado, era favorita e ha vinto. 3-1 andando in vantaggio nel primo tempo con questo gol di Sugar su azione di calcio d'angolo. Poi c'è stato un momentaneo pareggio da parte della formazione danese dell'Inbi che è arrivata all'1-1 per merito di un gol di Vilmar al termine di questa azione che stiamo seguendo in apertura di ripresa. In pratica la partita si è risolta proprio in una ripresa dopo il gol di Sugar del primo tempo. C'è questo pareggio da parte di Vilmar e siamo 1-1. A questo punto è già promossa la formazione della Stella Rossa che ha segnato due gol in trasferta 2-2 ma comunque ribadisce il suo diritto a superare il turno vincendo diciamo abbastanza agevolmente questa partita. andando ancora in vantaggio con un gol di Nikolic al termine di questa azione con un cross sulla sinistra arriva Nikolic e un'azione abbastanza simile. Poi si ripeterà per il terzo gol di Jurovic sono tutte azioni abbastanza globali, corali da parte della Stella Rossa proprio per ribadire la sua superiorità anche tattica oltre che tecnica in questa partita che la vedeva favorita e che appunto la formazione di Jugoslava ha onorato con questa bella vittoria ancora una volta il cross da destra, l'ultimo sulla fascia sinistra è Jurovic che segna il 3-1. E dalle immagini di Coppa delle Coppe passiamo direttamente a quella di Coppa UEFA.